Irregolarità nel trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli ingombranti nell'isola ecologica di Rudimirici. Da qui è stato sequestrato il sito e denunciato il sindaco Genio Aliberti, responsabile dell'area tecnica a cui compete la gestione dell'isola ecologica. Le indagini sono a cura della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto. È emerso lunedì scorso quando i carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto e del Nucleo Operativo Ecologico di Catania hanno effettuato controlli. Sono emersi irregolarità nella gestione dei rifiuti, deposito incontrollato di rifiuti in aree non autorizzate, mancanza di autorizzazione allo scarico di acqua e reflu e di dilavamento dei rifiuti, convogliati direttamente nella pubblica fognatura e del piazzale dell'isola ecologica. Al vaglio dell'autorità giudiziaria è la posizione di un operaio sorpreso, mentre con la spazzatrice di proprietà comunale postato sotto sequestro perché sprovvista della copertura assicurativa depositava rifiuti in aree non autorizzate. Il controllo è stato esteso anche all'area e nei locali della diecente ex mattatoio comunale mai completato. Qui sono stati rinvenuti altri rifiuti speciali depositati in maniera incontrollata e non autorizzata. Nel 2017 era stata la lega ambiente del Longano a segnalare la precarietà di questo sito.